Unicesimo Memorial Renato Ferri, finale nono-decimo posto. Si affrontano le formazioni del Castelnuovo e del Chievo Verona. I ragazzi del Castelnuovo espondono uno striscione per ricordare l'infortunio capitato proprio questa mattina nel primo incontro a un nostro giovane ragazzo, a Tommy, a Tommaso. Ma ragazzi gli fanno gli auguri di pronta guarigione a fratture del polso e quindi mi sembra giusto e importante questo segno da parte dei compagni di squadra. Grazie. 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 Grazie.